L'evento della settimana è senza dubbio la quarta stagione di Boris su Disney+. Torna la serie cult che racconta con un linguaggio satirico e fuori dagli schemi il dietro le quinte del mondo, del cinema e della televisione. Molto interessante per gli appassionati del genere anche l'uscita, ancora su Disney+, di Star Wars Tales of the Jedi. La serie animata è ambientata nel mondo di guerre stellari, è composta da sei episodi ed è suddivisa in due percorsi, uno che segue il personaggio Ahsoka Tano e l'altro il Conte Dooku. Vi avevo avvisati dell'oscurità in combattimento. Su Sky Atlantic partiranno le puntate della seconda stagione di Gangs of London. Continuano le guerre intestine alla più grande organizzazione criminale di Londra, l'obiettivo è uno solo, l'egemonia dei traffici di droga, il cui epicentro è la capitale britannica. Sai quanto ci è dovuto per governare questa città? Su Netflix arrivano gli episodi della sesta stagione di Big Mouth, commedia animata per adulti che affronta con umorismo le glorie e gli orrori della pubertà, seguendo le tragicomiche avventure di un gruppo di amici e amiche che affrontano il cambiamento passando dalle scuole medie alle superiori. L'unico modo per ricevere affetto è dare affetto.